Giorno di Champions League, buon mercoledì, buon mercoledì a tutti, oggi 18.45 il Milan sfida la Dinamo Zagabria in questo secondo match del girone di Champions, partita che vedrà anche la presenza di diversi tifosi croati in Italia, Milano, quindi fate anche molta attenzione perché si parla comunque di circa 4.000 croati a San Siro e insomma bisogna sempre avere un po' di prudenza, quindi anche per chi va allo stadio, avete letto anche la comunicazione ufficiale fatta dal Milan sul sito ufficiale per quanto riguarda anche alcuni spostamenti all'interno dei vari settori dello stadio, se non l'avete letto andate sul Sio del Milan perché può essere molto utile, oggi ha parlato Zlatan Ibrahimovic e quando parla Ibra è sempre un gran piacere leggere le sue dichiarazioni, Ibra ha parlato alla Gazzetta dello Sport, ha detto quando tornerò lo farò con violenza, cioè mi farò sentire quando tornerò, la domanda è giustamente quando torna Ibra, dovrebbe essere a gennaio, lui ha risposto però ci vuole pazienza, ci vuole calma, bisogna recuperare nel miglior modo possibile, lui ora si sta allenando tutte le mattine al centro sportivo di Milanello, quindi ha ripreso contatto con l'ambiente di Milanello, è la cosa più importante perché quando c'è Ibra a Milanello l'intensità degli allenamenti cambia, cambia perché basta la presenza di Zlatan per alzare l'asticella, lo sappiamo, lo abbiamo detto in questi anni, è stato lui il fautore di una rinascita del Milan e Ibra ci sarà ancora. Lui dice che il Milan è più forte dell'anno scorso e io sono anche d'accordo, fate sapere anche la vostra sotto questo video, il Milan è più forte rispetto all'anno scorso, ha perso che sia Romagnoli ma ha preso De Chetelare, ha preso tanti giovani, lui dice siamo ancora più forti dello scorso anno come gruppo nel complesso, siamo una squadra migliore, il mercato dell'estate dopo lo scudetto ci ha rinforzato e ora abbiamo più alternative in panchina. Il Milan mi piace, questo è chiaro, se non mi fosse piaciuto non sarei stato qui, dice Zlatan Ibrahimovic e poi l'investitura anche per Charles De Chetelare, lui dice tra i nuovi acquisti giustamente c'è De Chetelare e Ibra non ha dubbi, De Chetelare è un top, lo dico io, dice Zlatan, dovete solo dargli un po' di tempo per crescere, quindi diamo tempo a Charles De Chetelare e proprio parlando di De Chetelare ci possiamo collegare a un'altra tematica di questo video, ovvero la probabile formazione per questa sera, perché c'è ancora un piccolo ballottaggio sulla tre quarti tra De Chetelare e Ibra Indias, il ragionamento di Pioli che ha fatto anche in conferenza stampa ci fa capire che potrebbe essere la scelta Diaz sulla tre quarti, perché lui dice che Olivier Giroud è l'unico attaccante a disposizione, perché Origi, Rebic e Ibra purtroppo sono fuori, quindi l'unico che può fare la punta sarebbe De Chetelare, giocatore che ha già fatto la punta al Bruges, ha già giocato avanzato nel modulo al Bruges, quindi può giocare al posto di Olivier Giroud, può essere il cambio di Olivier Giroud, ecco perché è possibile che De Chetelare parte dalla panchina, così Pioli ha un'arma in panchina sia se dovesse sostituire Giroud ma anche lo stesso Brian Diaz, d'altronde c'è bisogno anche di alternare i giocatori, Brian potrebbe, utilizzo ancora il condizionale potrebbe essere l'unico vero cambio rispetto a quella che poi la formazione tipo, dovrebbe scendere in campo il Mian con Mike Mignan, Calabria, Calulu, Tomori e Tevernandez, Tonali e Benasser a centrocampo, Salem e Kers sulla corsia di destra, Leao sulla corsia sinistra, Giroud davanti, l'unico dubbio lo lasciamo sul ruolo di rifinitore della punta, di numero 10, quindi o Brahim o De Chetelare, se dovesse giocare il belga, perché naturalmente in questo momento è il primo della gerarchia e quindi è la formazione che avevamo ipotizzato, se dovesse giocare Brahim e allora è perché Pioli vorrebbe tenersi un cambio in più in panchina o per la punta, quindi per Giroud, o per il trequartista, quindi per lo spagnolo, questo è un po' il quadro della situazione. Ieri sono emerse anche voci riguardanti un'offerta da parte del Chelsea da circa 70-80 milioni di euro, voci sono rimbalzate anche da un'intervista fatta dal collega Sky Gianluca Di Marzio a un format inglese. Diciamo che non è proprio una novità perché sapevamo che il Chelsea ci stava provando per Rafa Leao in estate, lo abbiamo detto tante volte, non si è arrivati ad una vera e propria trattativa perché il Milan non ha mai aperto la cessione di Rafa Leao, soprattutto per 70-80 milioni, sono pochi, perché non ci dimentichiamo che di questi 70-80 milioni c'è anche una percentuale da dare a Lille, quindi non sarebbero neanche stati 70, ma di meno. E voi vendereste Leao con due anni ancora di contratto, giocatore migliore della Serie A per 70-80 milioni, meno il 15% da dare a Lille. Insomma, negli ultimi giorni di mercato, tra l'altro, dove il Milan avrebbe avuto quei soldi in mano, ma qualsiasi squadra avrebbe chiesto di più per acquistare, per vendere un proprio giocatore. Se il Milan voleva prendere un sostituto lo strapagava, sicuramente, perché negli ultimi giorni di mercato tutte le squadre ti chiedono il doppio del prezzo. Quindi è stato, secondo me, giusto per il Milan non aprire nemmeno una trattativa per Rafa Leao, perché non è stata nemmeno aperta una discussione seria, concreta sul tavolo per la cessione di Leao. Il Milan ha l'obiettivo di rinnovare Rafa Leao e io credo che potrebbe anche riuscirci. Attenzione, nei prossimi giorni, forse durante la sosta, c'è con un po' più di calma la possibilità anche di un incontro con l'entourage di Rafa Leao per provare a strappare il sì di Mendes e di Leao per il rinnovo di contratto. È fondamentale. Quindi il corteggiamento del Chelsea era noto. Sicuramente non hanno mai offerto cifre oltre 120-130 milioni, perché in quel caso il Milan avrebbe magari aperto una trattativa, ma 70-80, ma anche i 90 milioni sono comunque pochi per un giocatore come Rafa Leao, considerando le spese che hanno in Premier per giocatori normali. Con tutto il rispetto per gli acquisti che sono stati fatti quest'anno, ma anche gli anni passati in Premier, se tu vuoi prendere Leao con il metro economico di giudizio di paragone che viene fatto in Premier League, devi offrire almeno 130-140 milioni, almeno per Rafa Leao. Se consideriamo che un grilliscio è stato acquistato dal Manchester City per 117 milioni, arrotondiamo a 120, Rafa Leao quantomeno devi pagarlo o la stessa cifra o di più. Quindi è stato giustissimo per il Milan alzare il muro, la barricata per Leao in estate, soprattutto negli ultimi giorni di mercato, poi se ne riparlerà sia per il rinnovo, ma magari anche per una possibile nuova offerta del Chelsea a gennaio. Magari il Chelsea ci riproverà, è un po' in questo momento la squadra più concentrata su Rafa Leao. Oggi nel pomeriggio ci sarà anche il nuovo CDA a casa Milan, il primo vero CDA consiglio di amministrazione con Redbird, dopo il passaggio praticamente di quote societarie dal fondo Elliott al fondo americano Redbird Capital di Gerry Cardinale. Entrerà nel CDA anche Gerry Cardinale, salvo sorprese clamorose dovrebbe essere confermato presidente del Milan Paolo Oscaroni, amministratore delegato a Evangazidis, attenzione però perché sarà confermato fino a novembre, perché il suo contratto scadrà a novembre e poi a novembre credo che diciamo Evangazidis poi uscirà dal Milan per chi ha ricevuto altre offerte, per chi potrebbe anche decidere di fermarsi per riposare un attimo, sapete che lui non ha avuto negli ultimi tempi una vita semplice anche a causa di quel brutto male che ha avuto, vi ricordate? Quindi magari potrà anche decidere per questioni personali di calmare un attimo le acque, di sostare prima di ripartire oppure di accettare direttamente altri tipi di offerte, però Gazzidis dovrebbe rimanere fino a novembre, entreranno nuovi membri all'interno del CDA, verrà poi ratificato nel pomeriggio e avremo il quadro più completo, ci saranno sicuramente degli uomini Elliot, perché comunque Elliot ha prestato una cifra importante a Redbird che poi verrà restituita con un tasso di interesse circa al 7% nei prossimi mesi da parte di Gerry Cardinale, quindi ci saranno anche degli uomini Elliot all'interno del CDA, dovrebbe esserci un rappresentante della famiglia Singer, probabilmente Gordon Singer e ovviamente Giorgio Furlani. Per il quadro completo aspettiamo il CDA nel pomeriggio, vi ricordo la partita alle 18.45, poi nella serata insomma dopo il match commenteremo questa seconda partita di Champions League del Milan dove c'è bisogno assolutamente della vittoria, dei tre punti di vincere perché se l'obiettivo è passare agli ottavi non c'è non c'è altra strada che vincere. A proposito il Milan non vince in casa in Champions League a San Siro da nove anni. Ha vinto l'ultima volta in Champions League a Madrid con gol di Messias, vi ricordate l'anno scorso, ma in casa manca dalla partita contro il Celtic 2-0 a San Siro 2013, quindi ben nove anni. C'è bisogno un attimo di aggiornare la statistica. A presto.